Lavoralo bene e poi ti do l'altro, prima lavoralo. Qua vedo, ho sbaglio, del due scimmiette, una tigre feroce, abbiamo Jasmine che accarezza la tigre, due tigri feroci e poi altre scimmiette. E come si muovono e come si relazionano fra di loro queste scimmiette. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.